In quest'ultima settimana, nel corso dei festeggiamenti dei Santi Patroni di Andria, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri della locale stazione. A finire, nella rete dell'arma, sono stati ben quattro soggetti. Nel quartiere San Valentino, beccato un 32 in Andrie, si è pregiudicato, sorpreso dai militari mentre spacciava Ashish. Lo stesso è stato trovato in possesso di otto grammi, pronti per essere ceduti e denaro contante, ritenuto il provento dell'attività illecita. Stessa sorte nel centro storico per un 49enne, Andriese è pregiudicato, anche egli sorpreso mentre era intento a spacciare Ashish. Sempre nel centro storico, predisposto un minato servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione di un 53enne, Andriese è pregiudicato, anche egli, che ha consentito di sorprendere l'uomo mentre cedeva dosi di cocaina. A giovani del luogo, nel corso dell'operazione, alla quale ha fatto seguito una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro tre grammi di cocaina destinate allo spaccio insieme a denaro contante. Diversi giovani sono stati identificati e segnalati all'ufficio territoriale del governo per uso di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Trani ha disposto il regime degli arresti domiciliari per il 32enne e il 49enne e la reclusione presso la casa circondariale di Trani per il 53enne. Infine, sempre nel corso dei controlli, i carabinieri hanno proceduto all'arresto, nelle prime ore del mattino, di un 65enne Andriese pregiudicato per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, in quanto si era allontanato dalla propria abitazione senza farvi rientro. L'uomo su disposizione della competente autorità giudiziaria è stato sottoposto a regime degli arresti domiciliari.